Eccoci siamo con un nuovo corso. Oggi facciamo un po' di percorsi. Iniziamo dal Duomo e vediamo quali possono essere alcuni dei percorsi che ci potrebbero chiedere durante l'esame per l'iscrizione al ruolo di Milano. Iniziamo subito. Duomo, piazza 5 giornate. Ci sono diverse soluzioni, ne guardiamo due. Quindi la prima soluzione è piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via Santa Margherita, largo Ghiringhelli, piazza della Scala, via Caserotte, largo Mattioli, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti e siamo in piazza San Babila. Largo Toscanini, corso Europa, via Cavallotti, largo Augusto, corso di Porta Vittoria. Qui siamo all'angolo con la cerchia dei Navigli. Corso di Porta Vittoria, piazza San Pietro in Gessate dove c'è il tribunale, largo Biaggi, corso di Porta Vittoria e siamo arrivati in piazza 5 giornate. Piazza Duomo, piazza 5 giornate. Seconda soluzione. Piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, Largo Borges, via Mazzini, piazza Messori, via Albricci, via Larga, via Versiere, largo Bersaglieri, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, piazza San Pietro in Gessate, largo Biaggi, corso di Porta Vittoria, piazza 5 giornate. Ora dal Duomo andiamo in stazione centrale. Piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via Santa Margherita, largo Ghiringhelli, piazza della Scala, via Manzoni, via Croce Rossa, via Manzoni, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, via Vittor Pisani, piazza Duca d'Aosta e siamo arrivati in stazione centrale. Qui possiamo scegliere se andare o dal lato di Luigi di Savoia oppure dalla parte di piazza 4 novembre. Piazza Duomo, piazza Oberdan, piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via Santa Margherita, largo Ghiringhelli, piazza della Scala, via Manzoni, via Croce Rossa, via Manzoni, piazza Cavour, via Palestro, corso Venezia e piazza Oberdan. Piazza San Babila, via Brera, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via Catena, largo Matteoli, via Caserotte, piazza della Scala, largo Ghiringhelli, via Santa Margherita, largo Santa Margherita, via Protaso, via Porrone, via Broletto, via Dell'Orso, via Brera. Duomo, piazza Resistenza Partigiana, piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via Torino, piazza Santa Maria Beltrade, via Torino, piazza San Giorgio, via Torino, largo Carrobbio, via Cesare Correnti, piazza Resistenza Partigiana. Siamo nella cerchia dei Navigli. Duomo, centro oncologico, piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, largo Borges, via Mazzini, piazza Missori, corso di Porta Romana, piazza San Nazaro in Brolo, corso di Porta Romana, e qui incrociamo ancora la cerchia dei Navigli, largo Crocetta, corso di Porta Vigentina, via Ripamonti 435. Duomo, centro oncologico, con un'altra soluzione. Piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, largo Borges, via Mazzini, piazza Missori, corso Italia, piazza Bertarelli, corso Italia, piazza Santa Eufemia, corso Italia, piazza Porta Ludovica, via Teulier, via Castelbarco, via Bazzi, via Antonini, via Virgilio Ferrari, e poi proseguiamo dritto per via Ripamonti 435 e troviamo un oncologico. Duomo, via San Vittore, piazza Duomo, via Mengoni, Largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Meravigli, con piazza San Pietro e Lino, corso Magenta, largo Enzo Tortora, corso Magenta, largo Dancona e siamo sulla cerchia dei Navigli, corso Magenta, via Dettoni, via Marradi, via Carducci, via San Vittore. Duomo, via San Vittore, seconda soluzione. Piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Meravigli, con piazza San Pietro e Lino, corso Magenta, largo Enzo Tortora, corso Magenta, largo Dancona, siamo sulla cerchia dei Navigli, corso Magenta, piazza Santa Maria delle Grazie, via Zenale, via San Vittore. Piazza Biategrasso, Duomo, piazza Biategrasso, via Montegani, via Meda, largo Maler, corso San Gortardo, piazza 24 Maggio e siamo sulla cerchia dei bastioni, corso di Porta Ticinese, piazza San Teustorgio, corso di Porta Ticinese, via De Amicis, qui siamo sulla preferenziale dei Navigli, piazza Resistenza Partigiana, via Cesare Correnti, largo Carrobbio, via Torino, piazza San Giorgio, via Torino, piazza Santa Maria Beltrade, via Torino, piazza Duomo, piazza Biategrasso, Duomo, seconda soluzione, piazza Biategrasso, via Medeghino, piazza Grippa, via Valla, via Lampedusa, via Bazzi, via Castelbarco, via Teulie, piazzale di Porta Ludovica, siamo in cerchia dei bastioni, Corso Italia, piazza Santa Eufemia, Corso Italia, piazza Bertarelli, Corso Italia, piazza Missori, via Mazzini, largo Borges, via Mazzini, piazza Duomo. Duomo, motorizzazione, via Cilea, piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via Broletto, via Cusani, largo Cairoli, largo Callas, foro Buonaparte Dispari, piazzale Cadorna, via Paleo Capa, via L'Alemagna, via Lemilton, via Canova, Corso Sempione, piazza Firenze, via Lecertosa, piazzale Accursio, via Gallarate, via Pennini, via Cilea, e siamo in motorizzazione. Duomo, piazza 6 febbraio, piazza Duomo, via Mengoni, largo Santa Margherita, via San Protaso, via Porrone, via San Prospero, via Meravigli, piazza Santipietro e Lino, via Meravigli, Corso Magenta, largo Enzo Tortora, Corso Magenta, largo Paolo d'Ancona, via Vincenzo Monti, piazza Virgilio, via Vincenzo Monti, largo Quinto Alpini, via Vincenzo Monti, piazza Giovanni XXIII, via Vincenzo Monti, piazza 6 febbraio. Piazza Duomo, piazza 5 giornate Ora fammi piazza Duomo, piazza 5 giornate, con la seconda soluzione. Piazza Duomo, stazione centrale. Piazza Duomo, piazza Oberdan. Piazza San Babila, via Brera. Piazza Duomo, piazza Resistenza Partigiana. Piazza Duomo, centro oncologico. Piazza Duomo, centro oncologico, in un altro modo. Piazza Duomo, via San Vittore. Piazza Duomo, via San Vittore, nell'altro modo. Piazza Biate Grasso, piazza Duomo, in un altro modo. Piazza Duomo, motorizzazione. Piazza Duomo, piazza 6 febbraio. Piazza Duomo, piazza 6 febbraio. Piazza Duomo, 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 piazza Duomo